Eccoci di nuovo negli studi di Una Mera al Giorno, come promesso dopo pochissimi minuti di pausa pubblicitaria. Occupiamoci adesso di fiction, telefilm, serie televisive che tutti quanti più o meno guardiamo nel corso delle nostre serate. In particolare però questa sera vogliamo affrontare un argomento, come queste possano influenzare un po' le nostre vite, le nostre menti e quando guardarle in modo anche ossessivo può diventare patologico quasi. E per farlo allora vi vado a presentare il nostro prossimo ospite di questa sera, il dottore Cristian Pagliariccio, psicologo e membro dell'Ordine di Psicologi del Lazio. Benvenuto. Buonasera. Vorrei esordire però con il dottor Pagliariccio partendo da una serie televisiva in particolare mercoledì. Perché questa serie? L'abbiamo scelta insieme ovviamente perché sta riscuotendo un grande successo ed incuriosisce. Qual è la motivazione che c'è dietro a tanta celibrità? Perché questa serie in particolare televisiva è diventata così celebra in generale? Perché una fiction diventa diffusa e tutti la vogliono assolutamente guardare e sapere di cosa si tratta? Sì, intanto è un buon prodotto, nel senso che è una serie costruita molto bene, con dei colpi di scena, con delle fasi che sono horror, con delle parti di misteri e con delle parti anche drammatiche di team drama. Ed è una serie che poi richiama le passioni anche delle persone un po' più grandi, richiamando tutta la storia della famiglia Adams. Ovviamente c'è una storia che viene recuperata nella nostra memoria anche di noi che siamo un po' più grandi. Quindi il fatto che sia un buon prodotto, che ci emozioni molto e che richiama un qualcosa al quale siamo affezionati anche rispetto all'infanzia, oppure rispetto alla nostra cultura, questo è un qualcosa che genera successo e poi il lavoro è fatto veramente molto bene. Cioè quindi dottor Pagliariccio è una serie che si può guardare con tutta la famiglia o quasi, nel senso che può mettere più generazioni d'accordo, è questo il discorso? Allora sì, può mettere più generazioni d'accordo. I piccolissimi in alcuni casi ovviamente potrebbero spaventarsi rispetto ad alcune immagini che sono forti anche se i bambini sono abituati, però lì bisogna andare un po' con cautela. Però è una serie che effettivamente può essere vista un po' da tutti e da tutte. Citando la paura dei più piccoli, mi dai là per una domanda che volevo farle. Nei mesi scorsi si è parlato anche in relazione magari alla festa di Halloween, anche in altre occasioni, a quanto la paura ed esporre i bambini ad immagini paurose possa essere funzionale e importante anche per il loro sviluppo, per mettere di fronte a qualcosa che magari gli possa insegnare anche dei modi di reagire. Ecco è giusto esporre i nostri figli a queste immagini. Ovviamente mi riferisco a quelle consentite, non a film horror che sono vietati ai minori di 13 o 18 anni, ma quelle immagini magari un po' più paurose che possono esserci anche in un cartone animato del tutto adatte ad un bambino. I bambini scelgono a volte proprio la paura. Le fiabe ad esempio sono intrise di paura e hanno dei risvolti anche paurosi, spaventosi. È un modo questo per imparare un po' a gestire l'emozione interna senza però rischiare quello che avviene all'esterno. È come se fosse una sorta di simulazione che la mente del bambino fa nel gestire le proprie emozioni. Quindi può avere effettivamente un qualcosa di positivo, l'entrare in contatto con stimoli che sono paurosi, come altri tipi di stimoli. Ad esempio c'è stata una ricerca interessante che leggevo un po' di tempo fa proprio su come si è affrontato il Covid rispetto a quello che si guardava a casa. È stato visto che le persone che effettivamente ricorrevano un po' di più agli horror o a cose forti hanno affrontato un pochino meglio la tematica del Covid. Quindi è come se ci fosse appunto un allenamento. Un allenamento, come se fosse una palestra. Però quello che mi incuriosisce è che diciamo ovviamente non possiamo generalizzare al 100%, però spesso accade, parlando soprattutto della popolazione magari adulta e non proprio dei bambini, che si sia attratti da film con trame horror spaventose che magari ci fanno anche chiudere per un attimo gli occhi, però le vogliamo guardare, guardare fino in fondo e così accade magari anche per i thriller che possono avere degli scenari un po' cruenti, che possono raccontare storie che ci fanno temere che magari una cosa così terribile possa accadere anche a noi. Ecco ma perché ci attraggono se poi in realtà ci copriamo gli occhi? Beh, il fatto che siamo attratti e spaventati non è proprio una contraddizione, perché abbiamo bisogno di emozioni forti e in molti casi le persone non riescono a costruire nella loro vita delle esperienze che diano delle emozioni forti, che diano ecco la scarica di adrenalina. Film horror in molti casi ci aiutano ecco a provare tutto questo senza correre alcun rischio e poi attivano anche delle dinamiche che sono interessanti. Ad esempio le persone che vorrebbero in qualche modo esprimersi con violenza o con forza e via dicendo, trovano in qualche modo una sorta di appagamento delle proprie tendenze, anche identificandosi un po' con i personaggi, anche quelli più crudeli a volte, senza però la paura di essere giudicati da quello che si fa, perché poi non è un qualcosa che si manifesta all'esterno, è un qualcosa che noi proviamo internamente in maniera molto, ecco a volte spaventosa, però poi gradevole quando c'è la fase di tranquillità, ecco. Ma è possibile però che si possa arrivare, diciamo, a sfumare questo limite tra il film horror, thriller e la realtà e che quindi lo spavento diventi talmente forte che io magari o non mi addormento, o faccio gli incubi, o durante il giorno ripenso a quelle scene e quasi vivo nel terrore. Anche ad una persona adulta può capitare. Sì, quello assolutamente sì. Quando lo stimolo è troppo forte e ci si immerge molto in quello che si sta vedendo, effettivamente poi, ecco, ne risentiamo un po'. Però se siamo adulti riusciamo a gestirlo. I bambini invece faticano molto di più, quindi il consiglio che si dà per i bambini è quello di non eccedere con stimoli che non siano alla portata dei bambini, perché poi questo ovviamente li terrorizza, non solo li spaventa e poi questo apre tutta una serie di difficoltà che è enorme per i bambini. Cioè, in altre parole, se il bambino guarda, non so, un video adatto ovviamente alla sua età e c'è una scena che può far paura e lui la vive tranquillamente, glielo lasciamo guardare, ma se il bambino scappa o piange, sicuramente è meglio non proporgliela. Sì, o no. Al di là del fatto che magari è giusto esporgli a certe cose, ma se il bambino ha proprio terrore e lo manifesta, a quel punto evitiamo, magari riproviamo l'anno successivo qualche mese dopo. Certo, soprattutto se incomincia a manifestare, ecco, episodi di incubi notturni, oppure ripropone nella vita quello che vede, ad esempio se vede una scena aggressiva e poi la ripropone, quello è un segnale già abbastanza allarmante. Quindi, ecco, la paura, lo spavento va un po' calibrata. Però, come tutte le emozioni, serve, ecco, presentarla, perché non viviamo solamente di gioia, ne abbiamo tante. Certo, magari però si può ipotizzare un'esposizione graduale, in modo che non viva eventualmente, diciamo, la cosa come un vero e proprio trauma. Una cosa che mi incuriosisce, dottor Pagliariccio, è capire, ma come mai può accadere, perché accade che una serie ci prenda talmente tanto che non possiamo fare a meno di vederla, che o aspettiamo la sera, insomma, a tutti i costi per vedere la prossima puntata, o addirittura c'è chi fa delle full immersion, quindi passa 24, 48 ore, tre giorni a vedere tutte e tutte le puntate e non smette finché non finisce. Sì, lì ci sono diverse spiegazioni. Da una parte c'è il patto narrativo che si fa con un libro, con una serie e via dicendo, nel senso che quando si entra all'interno di quello che è il racconto, poi effettivamente si viene molto presi. Ecco, si accende la nostra curiosità e siamo molto curiosi noi esseri umani. Dall'altro lato, però, c'è una tendenza che a volte diventa eccessiva. Ad esempio, se io sono preso troppo dai miei problemi personali, la serie mi aiuta a staccare la mente, a non pensare a quelli che sono i problemi, e molte persone incominciano a fare delle vere e proprie abbuffate di visione. E effettivamente questo poi può diventare un problema nel momento in cui manda un po', ecco, a rilento la nostra vita o la penalizza. Ad esempio, se io perdo varie notti per guardare serie televisive, è ovvio che poi la mattina diventerò meno capace, meno performante e questo influirà sulla mia esistenza. A me con qualche libro è successo, lo devo ammettere, con le serie televisive mai, perché se sono stanca, diciamo, con la televisione mi concilia il sonno. Però con dei libri mi è successo di trascorrere tutta la lotta in bianco per finire, per vedere come andava a finire, quindi qualche volta è capitato anche a me. Nulla di patologico ovviamente può succedere, ma quando invece parliamo di patologia o qualcosa che possa essere assimilabile a un disturbo, cioè quali sono i sintomi del non distinguere più un po', diciamo, la realtà da quello che avviene nella fiction, e anche quando il dover vedere per forza, come diceva lei, compromette anche la nostra vita quotidiana. Sì, quando praticamente la nostra vita, ecco, incomincia in qualche modo a franare, proprio per quello che facciamo. Ad esempio, non so, incominciamo a essere meno performanti, abbiamo un lavoro da svolgere, lo mettiamo da parte, quindi incominciamo a procrastinare e ci concentriamo più sulle serie, poi ovviamente ci ritroviamo con una quantità di lavoro che via via aumenta. Quando abbiamo anche dei risvolti emotivi che sono importanti, ad esempio finita la serie e poi ci sentiamo molto tristi, molto stanchi, molto provati e via dicendo. E altre cose non ci danno le stesse emozioni, quindi quando la serie televisiva ci coinvolge molto, però la vita reale effettivamente non ci dà quel gusto e quelle emozioni. Allora lì dobbiamo in qualche modo far scattare degli allarmi, perché significa che stiamo utilizzando la serie in maniera, ecco, autocurativa, però quella forma di automedicamento in qualche modo non sta funzionando, quindi dobbiamo trovare altre soluzioni. Ma si può arrivare ad una vera e propria dipendenza? Sì, assolutamente sì, come c'è una dipendenza da videogiochi, come c'è una dipendenza anche per sostanze. Ci sono delle dipendenze che sono legate a sostanze, ma ci sono delle dipendenze che sono anche comportamentali. E quindi il fatto di chiudersi, ecco, e restare chiusi nella rete oppure nelle serie televisive e via dicendo, in qualche modo può generare una dipendenza e può in qualche modo influire sulle nostre capacità di affrontare il mondo e la vita. Certo, ma quando si parla di dipendenze si associano sempre due concetti. Uno è quello dell'assinenza, cioè quando non siamo più, in questo caso, sommersi e presi, insomma, dalla visione possiamo avere un'assinenza e dall'altra ce l'hanno una missione della dipendenza, cioè io non mi rendo conto di avere questo problema. È così anche per la dipendenza da fiction, serie televisive o comunque da tv, insomma, i film in generale? Sì, è così anche per le serie televisive, le fiction, ed è così, però si vede un pochino meno, nel senso che la persona che dipende un po' dalla serie sta con la mente che pensa alla serie, anche mentre sta facendo qualcosa, quindi fantastica, aspetta, fa le sue fantasie, e quindi è come se fosse un avatar a volte, nel senso è presente fisicamente, ma la mente sta pensando alle novità che arriveranno, oppure a cercare informazioni che in qualche modo soddisfano le proprie curiosità. Quindi sì, c'è questa cosa. E un altro elemento può essere quello della rabbia. Ad esempio, se la persona viene interrotta mentre sta facendo le sue attività, se scatta in brevissimo, ecco, un picco di rabbia forte, come quando si sta ai videogiochi e si viene interrotti e via dicendo, allora lì c'è un segnale che il coinvolgimento è troppo forte e potremmo in qualche modo regolarci. Significa che noi non possiamo considerare il valore di una serie televisiva più di un rapporto che abbiamo a casa, ad esempio, con una persona amata, oppure con una persona con la quale conviviamo. Ecco, possiamo anche mettere in pausa un attimo, non succede nulla. Lasciarsi andare ad una visione, diciamo, ininterrotta di queste serie potrebbe incrementare anche tutti quei disturbi che sono magari più frequenti fra i adolescenti, ma non sono presenti solo fra i adolescenti. Mi riferisco all'isolamento sociale, pensiamo agli chi mori, oppure alle persone che semplicemente evitano di frequentare gli altri o dei luoghi pubblici. Può incidere. Può incidere. È appunto una sorta di automedicamento che le persone trovano un po' per tranquillizzarsi e anche per affrontare la noia. Ad esempio, quando stiamo chiusi dentro casa, poi a un certo punto noi, come esseri umani, anche come animali sociali, abbiamo bisogno di varietà. E questa varietà, se non possiamo trovarla all'esterno, dobbiamo trovare un sistema che ci aiuti. E le serie televisive effettivamente ci aiutano a fare quel lavoro di flessibilità emotiva, perché ci scuotono emotivamente, ci fanno provare, ecco, paura, passione, dolore, a volte ci fanno piangere. Quindi, sì, è un qualcosa che però rende l'ambiente di casa più confortevole, quindi poi non ci dà nemmeno lo stimolo per andare a cercare qualcosa all'esterno e non ci fa vedere, ecco, quello che è il problema, che è l'isolamento, che nel frattempo aumenta sempre di più. Dottor Pagliarizzo, lei prima ha citato, per fare un po' un paragone, per far comprendere meglio ai telespettatori la dipendenza, per esempio, da videogiochi. Però a me è venuta in mente una cosa, mentre lei parlava, ma non so se condivide. Quando si parla di dipendenza da videogiochi, parliamo di qualcosa che ormai è abbastanza riconosciuto. Essere dipendenti da una fiction televisiva non è poi una cosa di cui magari si ha tanta consapevolezza. E quindi come fa un individuo effettivamente a rendersi conto? Deve essere magari chi gli sta accanto ad aiutarlo a percepire dei campanelli di allarme? Si può lavorare sul doppio binario, nel senso che si può ascoltare la critica che viene dall'esterno, perché quello può essere un segnale, però si può anche fare attenzione su quanto noi riusciamo a modulare la fiction, quel prodotto. Ecco, se vengo talmente tanto preso che faccio tante promesse a vuoto, quello è un campanello d'allarme importante. Se dico, vabbè, vedo una puntata e poi invece ne vedo cinque, oppure voglio finire tutta la serie, quello è un campanello d'allarme. Se dico, voglio fare questo dopo una puntata e poi non riesco a farlo e mi passa la giornata, quello è un campanello d'allarme. Quindi, ecco, io avendo a disposizione degli indicatori posso rendermi conto di come sta agendo il prodotto su di me e di qual è il mio potere sul prodotto o, al contrario, il potere del prodotto su di me. E quando ci rendiamo conto che il potere del prodotto supera il nostro potere, che cosa facciamo? Possiamo autogestire o almeno ci possiamo provare prima di rivolgersi ad uno specialista? Ci può dare qualche consiglio pratico che magari si potrebbe mettere in atto laddove si sente appunto questa maggiore influenza del potere del prodotto rispetto al nostro? Sì, consigli pratici possono riprendere una parte di quella che viene anche considerata come psicologia popolare. Ad esempio, mettere la fiction dopo che ho fatto qualcosa che effettivamente devo fare, questo può essere un aiuto, nel senso non metterla prima, ma metterla dopo. Come si fa con i bambini? Fai i compiti e dopo guardi i cartosimati? Quello è un buon consiglio, nel senso che è un qualcosa che anche ci, da un lato ci gratifica, dall'altro lato ci aiuta anche a rilassarci dopo che c'è stato uno sforzo e in più non ci fa perdere quelle forze, quelle energie che ci servono poi per compiere lo sforzo, perché anche se non sembra guardare qualcosa che ci emoziona molto ci fa consumare energie, ci in qualche modo affatica. Quindi, ecco, quello va considerato. Altre questioni che si possono utilizzare un po' per cercare di gestire questa tendenza è darsi dei limiti, cioè darseli poi rispettandoli. Nel senso, se io decido di vedere una puntata, vedo una puntata. E sembra paradossale, però questo aiuta ad aumentare il gusto che si prova per quello che si fa, cioè non consumare tutto frettolosamente che poi ci resta un vuoto, ma consumarlo anche con un certo ritmo ci aiuta anche ad avere piacere. E questo in tutto quello che facciamo, ecco. Se come esseri umani siamo troppo frettolosi in quello che facciamo, poi una grande parte del piacere ce la giochiamo. E non saper pazientare, che diciamo che rovira la vita di molti, e non soltanto in relazione, come diceva giustamente lei, alle fiction, alle serie tv, ma in generale, no? L'arte del pazientare, per me è un'arte. Sì, è un'arte però è anche un modello di crescita personale, tant'è che ad esempio con i bambini, non so se lo conosce, c'è il famosissimo Marshmallow Test, che è proprio un test sulla capacità di pazientare dei bambini. E si è visto che chi riesce a pazientare un pochino di più, riesce anche a raggiungere obiettivi migliori nella vita, e anche relazioni sociali più stabili e più funzionali, perché ovviamente poi non si pressa le persone, si incomincia a diventare più indipendenti e via dicendo. Ma anche perché poi, dottor Pagliarizzo, credo che quando non siamo in grado di pazientare, di aspettare, si dice che l'attesa del piacere è se stessa piacere, in realtà non ci godiamo il qui ed ora, perché anche il percorso che noi facciamo verso una determinata meta è vita, e se noi questo percorso di volta in volta ce lo perdiamo perché ci facciamo divorare dall'ansia, alla fine arriviamo all'obiettivo che non ce ne rendiamo conto, e anche poi quando siamo nell'obiettivo guardiamo oltre, e nemmeno quel risultato tanto atteso alla fine ci soddisfa. Certo. Si va in automatico, ecco, col pilota automatico, poi ci si trova a un certo punto nella vita che si guarda indietro e ci si trova smarriti. E quello diciamo è caratteristico delle persone che magari soffrono di ansia e possono provare anche dei sensi, diciamo, di insoddisfazione probabilmente... Anche. ...nei confronti della propria vita. Anche. Tornando diciamo invece a quello che era l'argomento, diciamo, della nostra serata, di questa mezz'ora che stiamo trascorrendo insieme, e ci sono altre serie TV che le vengono in mente che hanno, diciamo, avuto un successo, come la serie con la quale abbiamo esordito, quindi Mercoledì, e soprattutto, se sì, se erano collegate da, diciamo, delle caratteristiche comuni, cioè c'è qualcosa, un comune denominatore che poi alla fine ci attrae, attrae l'essere umano in generale. Allora, come Mercoledì no, perché Mercoledì è una serie trasversale che realmente ha tratto sia i più piccoli che i più grandi, però ci sono delle serie che, a livello generale, coinvolgono molto, ecco, se pensiamo tutte le serie che si legano agli zombie, tutte le serie che si legano ai serial killer, agli omicidi, sono delle serie che effettivamente coinvolgono più i giovani e un pochino più grandi, ecco, dagli universitari in su e anche tanti e tantissimi adulti, e sono delle serie capaci, ecco, di stimolare delle reazioni emotive molto forti. E, diciamo, è proprio l'attrazione che si prova è legata a questa emotività che viene scatenata, diciamo, trasversalmente in tutte le generazioni oppure ci sono delle differenze, magari il più giovane reagisce in un modo e quindi attratto per un motivo e magari la persona adulta o anche anziana per altri motivi? No, è proprio l'emotività, cioè è proprio quello stimolo che va a compensare una mancanza di emozioni nella nostra vita. Ecco, chi ha già delle emozioni forti in vita non ne va a cercare altre, le cerca solo un pochino così, però più come contorno che come aspetto centrale delle sue attività. Chi invece non riesce a provare emozioni forti anche a evadere o a trovare stimoli ovviamente poi viene più attratto da dei prodotti, ecco. E la dipendenza alla fine si struttura su un bisogno personale che nasce e in qualche modo trova una risposta. In questo caso la risposta è quella di vivere delle emozioni che altrimenti io in vita non potrei vivere. Sia dal punto di vista ecco, della rabbia, del dolore, della paura, del terrore, ma a volte anche della passione, dell'amore, ecco, ci sono delle scene che effettivamente ci fanno sognare e ci coinvolgono più per altre direzioni. Mentre parlavi è venuta a mente una curiosità e esco un po' diciamo fuori dall'argomento ma non troppo eh, lo giuro. Visto che prima ho detto a me è capitato di passare una notte in bianco leggendo un libro quindi la mia curiosità era questa. Perché alcune persone sono più attratte dall'immagine televisiva o cinematografica mentre altre, come per esempio me, da quella di un libro? E quello dipende dalle competenze. Un buon lettore ha delle buone competenze immaginative e quello che legge se lo rappresenta quindi entra all'interno della storia e ovviamente quello gli basta. La propria fantasia è appagante. Altri invece non hanno sviluppato delle buone competenze per una lettura che si definisce profonda quindi per entrare proprio nel profondo e hanno bisogno delle rappresentazioni. Quindi le giovani generazioni che sono state più abituate a fruire di video fanno più fatica in alcuni casi non tutti per fortuna a entrare ecco in questo patto narrativo con la storia se scritta e hanno bisogno di qualcuno che gliela rappresenti. è anche uno sforzo minore ecco rispetto a quello che si fa con la storia infatti è un po' più faticoso perché quando si è molto stanche magari mettersi con un libro davanti e quindi fare anche questo sforzo mentale che lei ben ha descritto effettivamente crea un'ulteriore stanchezza invece mettersi magari sul divano comodi e accendere la televisione è sicuramente qualcosa di molto più facile ma anche questa è di abitudine quindi da quello che le diceva cioè le nuove generazioni non è che sono stanche sono state già stanche sono solo meno abituate dovremmo abituarle di più sì non possiamo fare di tutto un erba un fascio perché dobbiamo sempre ricordare che tra i lettori i giovani sono i lettori più forti al di là dei pregiudizi nel senso che i giovani leggono molto di più degli adulti però ecco in molti casi molti giovani non sono abituati a leggere questo è vero come tantissimi adulti di fatto i giovani che leggono leggono più degli adulti spesso una lancia in nostro favore perché hanno più tempo libero magari quindi forse diciamo che quella è l'età giusta per divorarsi e un maggior numero di volvi non è solo quello è anche l'andare a leggere ad esempio nel tragitto che si fa all'interno degli autobus è proprio prevedere la lettura ecco poi è vero che sono più letture che si focalizzano sul fantasy su storie del genere però i giovani effettivamente stanno curando di più la lettura credo che forse il contenuto poi non è fondamentale l'importante credo che sia leggere più che leggere magari determinate letture quindi anche leggere dei fantasy piuttosto che altri argomenti più leggeri non credo che rappresenti un problema insieme no il contenuto no a patto che ci sia varietà perché ancora una volta se io scelgo solo un filone lì mi ci chiudo ecco questo poi alla fine si può ritorcere contro di me e quindi come tutte le cose ci deve essere varietà di lettura e allora prima di salutarci per chi non abbia visto allora la serie vale la pena vederla per quello che ti intendo sì guardatela osservatela fatevi una vostra idea provate a entrare un po' nelle emozioni che la serie vi propone però con moderazione seguiamo sì maratone no no assolutamente seguiremo il consiglio allora io ringrazio il dottor Pagliariccio per essere stato con noi questa sera grazie buonasera grazie ai nostri telespettatori però dico di rimanere con noi perché una mera al giorno torna tra poco dopo una breve pausa pubblicitaria con ancora tanti consigli per voi preoccuparci ancora insieme del vostro benessere e della vostra salute vi aspetto mi raccomando rimanete su questa rete grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti